Lotto numero 89 è la credenza di Paolo Buffa degli anni 50 che viene messa in gara a 2.000 euro ancora da confermare. 2.000 confermati da Fiola. 2.000 Fiola. Eleonora 200? 200 sempre Fiola. Fiola Web 200. 2.2. 2.2 Fiola. Aspetto 2.3. Aspetto 2.3. Altrimenti io giudico a Fiola 2.2. 2.3 Fiola. Fiola 2.3. Per Fiola 2.3. 2.4. 2.4 Fiola. Per Fiola 2.4. Aspetto 2.5. 2.5. Aspetto 2.6. 2.6. 2.6. Aspetto 2.7. 2.6 confermati. Aspetto 2.7. 2.7 confermati. 2.7. 2.8. 2.8. Aspetto 2.9. 2.8. 2.9 confermati. 2.9 confermati. 3.000 confermati. Aspetto 3.2. 3.000 confermati. Aspetto 3.2 arrivati sul web per noi. 3.2 banco. Per il banco 3.2. Aspetto 3.4. 3.4 confermati. 3.4. Aspetto 3.6. Aspetto 3.6. 3.4. 3.6 Fiola. 3.6 per Fiola. Per Fiola 3.6. 3.6 per Fiola. Aspetto 3.8. Aspetto 3.8. Altrimenti aggiudico a 3.6. 3.8 Fiola. Per Fiola 3.8. 3.8 per Fiola. Aspetto 3.8. 4.000. Aspetto 4.000. Altrimenti aggiudico a 3.8. 3.8 per la prima. 4.000 Fiola. Per Fiola 4.000. 4.000 per Fiola. Aspetto 4.2. 4.000 per Fiola. Per Fiola 4.000. Aspetto 4.2. Altrimenti aggiudico a 4.000. 4.000 per la prima. 4.000 per la seconda. Se non vedo altre offerti aggiudico a 4.000. 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 Grazie a tutti.